Ciao ragazzi Cialonina Passia dalla feccia aliena Facciamo una partita veloce Andiamoci a qualcuno Andiamo a commissione Oooo, ci credi sui giocati Oh no, andiamo a questo Eh, andiamo a questo Per questo si è unito alla squadra attacco con propulsori orbitali ottimo ottimo orbita sincronizzata si è unito alla squadra dai ma che cazzo ma vai senti me ne faccio una io perché mi da solo problemi tu sei qui la galassia aspetta il tuo aiuto coordinate missione fissate helpov pronti attacco con propulsori orbitali orbita sincronizzata attacco con propulsori orbitali non 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 Oggi la luce della libertà Illuminerà ancora una volta I cieli di questo mondo Allora Prima di tutto Raggio SOS Distroire alleato si unisce alla squadra Mi chiedo arma auxiliar Distroire alleato si unisce alla squadra Sul fronte Tag della mappa Sud ovest Distroire alleato si unisce alla squadra Mi chiedo una sentinella Distroire alleato si unisce alla squadra Soporto aereo 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 Chiedo supporto aereo. Buon campione. Tag della mappa, ovest. Andiamo a fare questo. Fornimenti. 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 Per la mappa, il sentinetta. Fornimenti. 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 Grazie a tutti. 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 Orbitali in arrivo. Stop. Grazie a tutti. Ricarico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. 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 a tutti.